Di politica, lei aveva detto se il referendum non passa lascio la politica, poi non l'ha fatto, perché? Abbiamo perso il referendum e l'abbiamo perso in modo netto sicuramente, tanto che poi Renzi si è dimesso e inizialmente anch'io devo dire che anche appunto per l'orgoglio personale, forse la cosa più semplice sarebbe stata anche per me lasciare. Poi devo dire che il Presidente Gentiloni mi ha dato questa grande opportunità chiedendomi di far parte di questo governo, di portare avanti anche alcuni progetti, alcuni dossier che già seguivo con il governo Renzi, quindi in un'ottica di continuità e devo dire che ho colto questa grande opportunità che mi è stata concessa proprio per cercare di continuare a dare il mio contributo, a fare del mio meglio e cerco di farlo nel migliore dei modi nonostante appunto anche alcune polemiche perché poi quando incontri dei ragazzi che ho potuto dare una mano per i progetti nelle scuole o le donne che incontro quando visito i centri contro la violenza sulle donne viene ripagato anche da tante polemiche. Poi forse fa parte anche del crescere sapere che anche di fronte ad una sconfitta che è stata sicuramente anche una ferita, ovviamente una delusione, poi si cerca di ripartire, si prova a ricominciare con umiltà, con il lavoro sodo, con le ore passate. Lei una volta qui all'intervista mi ha detto che il suo politico di riferimento era Fanfali, che era noto come il rieccolo. Secondo lei...